Penso che è stato il coronamento finalmente di un sogno, comunque alzare un trofeo importante. L'abbiamo fatto in questa cornice stupenda, che è lo Stadio dei Marmi. Avevamo tutte le qualità di giocatori per comunque portare a casa un trofeo. Il campionato l'ha dimostrato, tra secondo posto, migliore attacco, quarto di finale di Coppa di Lega, semifinale di Scudetto. I ragazzi volevano alzare un trofeo a tutti i costi, la società e il mister hanno creduto in questo gruppo e ci hanno ripagato finalmente.